buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno del capricorno andiamo a vedere quali saranno le energie del mese sia per le coppie che per i single e intanto vi ricordo che per avere una sessione privata con me di tarologia oppure un pacchetto con il coaching e l'analisi karmica potete inviare un'email o andare sul sito internet stessa cosa per diventare ai miei studenti o inviate una email e parlate con la mia assistente oppure fate tutto da soli tramite sito cominciamo però a vedere che cosa accade nel mese del capricorno e vediamo che l'energia è quella del mago rovesciato quindi l'energia è un po quella di un qualcosa che noi vorremmo iniziare a fare un percorso nuovo che vorremmo cominciare ma che per qualche motivo va un po rallentatore non ci sentiamo pronti al 100 per cento di iniziare questo qualcosa non ci sentiamo pronti di agire magari magari c'è proprio questa smania questa voglia di agire di fare di mettersi in moto però per motivi interni o esterni non sembra il momento giusto sembra che ci manchino tutti gli strumenti o magari ci manca la motivazione non ci sentiamo sicuri al 100 per cento quindi ecco che un'energia molto bella come quella del mago che ci mette in mostra il nostro desiderio di il nostro desiderio di lanciarci nel mondo e di fare viene un po smorzata ma si tratta appunto di un si tratta appunto di un rallentamento non di un blocco reale si tratta di un qualcosa che semplicemente non può andare rapidamente come noi magari lo desideriamo ma piuttosto c'è ancora bisogno di un po di tempo di assestare le cose di rifletterci bene vediamo cosa accade nelle due singole colonne perché in una ritroverete voi stessi nell'altra ritroverete la persona con cui state interagendo o il vostro partner chi sta da questo lato si sente come un 6 di bastoni prova un 4 di spade desidera la regina di bastoni rovesciata agisce come una giustizia rovesciata e ciò che non dice 4 di denari dall'altro lato abbiamo qualcuno che si sente come il matto rovesciato prova il 9 di denari desidera il 7 di bastoni rovesciato agisce come l'eremita rovesciato e ciò che non dice 3 di bastoni rovesciato beh decisamente non è il momento migliore per agire perché le energie che ci sono in effetti sono piuttosto quelle di due persone che hanno bisogno di starsene un attimino un attimino in pace con se stessi proprio per poter poi ripartire con il piede giusto dopo vedo troppe insicurezze vedo vedo due persone che non riescono a trovare un punto d'incontro un punto d'accordo vedo due persone che sembrano vivere in due mondi paralleli piuttosto che vivere nello stesso pianeta ed è per questo che qualunque desiderio di inizio è ostacolato ovviamente perché prima bisogna entrare in sintonia prima bisogna riuscire a a connettere due menti e due cuori per poter agire e lavorare insieme nell'ambito di una coppia o di una futura coppia invece in questo caso abbiamo due persone che stanno abbiamo due persone che hanno idee diverse sembrano avere interessi diversi progetti diversi e quindi davvero creare un match non è per nulla semplice questo porta anzi ad una chiusura c'è una vera e propria chiusura emotiva da parte di uno verso l'altro non vedo carte di coppe non so se voi ragazzi miei studenti non so se lo avete notato ma in questa stessa non ci sono carte di coppe nemmeno una nemmeno rovesciata quindi non ci sono emozioni non stiamo lavorando sulle emozioni piuttosto stiamo lavorando su altro stiamo lavorando su pensieri azioni o non azioni stiamo lavorando su noi stessi sulle sfide da superare sulle lezioni da imparare abbiamo quattro arcani maggiori infatti che parlano delle lezioni da imparare e di questo delicato momento del nostro percorso di crescita personale ma non ci sono che carte che parlano di interazione quindi queste sembrano due persone che o vivono una fase di allontanamento separazione o comunque si sono vicini ma sono vicini solamente fisicamente ma non mentalmente e soprattutto non emotivamente evidentemente questo è un momento in cui invece ci tocca lavorare da separati piuttosto che lavorare da vicini ma vediamo un attimino cosa accade nel caso delle coppie e nel caso dei single chi è in coppia cominciamo da chi è in coppia dunque per chi è in coppia è un momento sicuramente abbastanza critico è un momento abbastanza delicato potrebbe esserci stato appunto una lite una separazione e magari adesso c'è anche il desiderio di riavvicinarsi da parte di uno dei due però purtroppo mancano gli strumenti per poterlo fare manca la forza manca la capacità mancano le condizioni quindi ecco anche se uno dei due volesse riavvicinarsi all'altro non ci sarebbe non ci sarebbe l'opportunità reale e non ci sono le condizioni ottimali ma semmai invece forse è più indicato approfittare di questo momento di tempo e spazio per riflettere e per analizzare davvero che cosa si desidera perché queste non sembrano due persone che desiderano stare insieme queste sembrano due persone che finalmente per un motivo per un altro si sono sganciate e stanno pensando di riavvicinarsi solo ed esclusivamente perché non hanno tante alternative e non è amore questo non è amore questo non è passione questo non è complicità questo è abitudine o non avere alternative in alternativa appunto potrebbe essere magari un periodo che serve alla alla coppia per rivedere le proprie priorità per rivedere i propri interessi e anche perché no per mettersi in discussione per capire se davvero si vuole o non si vuole stare insieme per chi è in coppia uno dei due sente davvero il bisogno di prendere una pausa e isolarsi e chiudersi in se stesso è stato male ha sofferto e adesso e adesso è arrivata a questa convinzione a questa conclusione che c'è di meglio nel mondo c'è di meglio si può vivere la vita la propria vita relazionale in un modo migliore si possono si possono fare le proprie esperienze in modo migliore non bisogna necessariamente accontentarsi ma bisogna veramente mettersi a volte al primo posto e pensare a sé e pensare a quello che è meglio per sé questa è una persona che riconosce come nell'interazione fra i due ci sia una condizione una condizione di squilibrio una condizione di ingiustizia non non c'è giustizia in questo rapporto così com'è ed ecco che la chiusura è il metodo più efficace in questo momento per proteggersi l'altra persona l'altro partner invece sembra quello che vorrebbe un'altra opportunità vorrebbe ridare vita al rapporto vorrebbe fare un nuovo tentativo però però anche qui manca la convinzione manca la reale motivazione manca quella cosa più importante che è il crederci se non ci credi è inutile se non credi che questa cosa possa funzionare è inutile non non serve non va così non non può assolutamente servire si può fare un altro tentativo sì ma per poi arrivare sempre nello stesso punto di partenza qui chi è in coppia se davvero vuole se davvero vuole uscire vittorioso e insieme da questa condizione deve deve necessariamente fare i conti con se stesso più che con l'altro e domandarsi questo è quello che voglio davvero questa è la persona che io desidero davvero e se questa è la persona che io desidero davvero in che modo voglio vivere il mio futuro con questa persona in che modo voglio impostare il mio futuro con una persona con cui magari sono molto diverso perché siamo molto diversi perché magari non abbiamo poi in questo momento non abbiamo più in comune stimoli non abbiamo più in comune qualcosa che ci faccia sentire vivi abbiamo idee diverse che a volte ci portano allo scontro quindi come è possibile organizzare davvero un futuro con una persona con cui ci sono tante differenze ma in modo sereno farlo in modo sereno in modo che possa funzionare questo è il fulcro di tutto se davvero volete stare insieme è ovvio che una fase del genere può essere molto utile perché una fase del genere è proprio quella che vi può far fare i conti con la realtà e vi può mettere di fronte la realtà per quello che è e cioè io e questa persona interagiamo in questo modo magari non siamo la coppia migliore del mondo però comunque decidiamo di stare insieme scegliamo di stare insieme e allora se lo scegliamo dobbiamo trovare un modo una strategia comportamentale per poterlo fare nel modo migliore possibile altrimenti non serve altrimenti tanto vale andare avanti e aspettare la prossima persona questa è la soluzione diciamo migliore per affrontare questo periodo e per superare questo periodo in alternativa potete lasciare che le cose vadano da sole e farvi un po trascinare da emozioni da quello che capita non lo consiglio mai io in realtà in questi casi ragazzi se voi del capricorno vi sentite risuonare con questa lettura vi consiglio di chiedermi una sessione di coaching se invece non risuonate con questa lettura guardate quello ovviamente del vostro ascendente o della vostra luna e sicuramente troverete quella che state canalizzando voi la vostra energia del momento per chi invece è single per chi invece è single questa è una situazione di questa è una situazione nella quale nessuno dei due vuole stare con l'altro non c'è un non c'è una capacità da parte di nessuno dei due di avvicinarsi all'altro quindi o si tratta di due persone che non hanno un reale interesse l'una per l'altra e che riconoscono che sarebbe una relazione non funzionante e che quindi rinunciano e che quindi perdono interesse o hanno perso interesse l'una verso l'altra oppure si tratta di due persone che hanno già vissuto qualcosa d'insieme hanno già condiviso qualcosa ma è andato storto questo qualcosa è andato storto e ha portato entrambe le persone a sganciarsi ad allontanarsi e tutte e due sono chiusissime tutte e due vogliono una pausa tutte e due vogliono stare lontane l'una dall'altra anche se magari a volte a uno dei due viene il dubbio sì però potrei chiamare sì però potrei cercarla potrei riprovare però non è sufficiente per non è sufficiente per rimettere in gioco tutto o per mettere tutto in gioco anzi uno dei due sembra già avere un altro interesse sembra già esserci comunque un'altra persona nell'aria e quindi ecco che questo ovviamente contribuisce ulteriormente a non non facilitare un percorso di avvicinamento nella maniera più assoluta io qui ragazzi non vedo avvicinamenti qui per quanto riguarda i single vedo che questo è proprio un mese nel quale dovete focalizzarvi su altro non su questa persona dovete focalizzarvi su altro perché potrebbe appunto esserci altro nell'aria e se non subito molto presto ma adesso vediamo un po che cosa accade dall'interazione fra tutti i segni dello zodiaco con il segno delle capricorno tra l'altro vedo proprio che per i single uno è molto sicuro di sé uno sa perfettamente che sta facendo la cosa migliore e quindi tornare indietro con questa consapevolezza col fatto che si sta facendo la cosa migliore è veramente molto difficile l'idea di cambiare idea no mi sembrano entrambe mol persone molto convinte che va bene così e che non è il caso di insistere andiamo appunto a vedere le interazioni intanto ragazzi io ovviamente vi ricordo che se volete diventare miei studenti imparare la tarologia psico evolutiva che è specifica per l'ambito dell'analisi delle relazioni umane potete appunto iscrivervi dal sito oppure potete inviare un'email Angela vi spiegherà tutto quindi vediamo un po cosa sta accadendo nell'interazione tra il capricorno e i 12 segni dello zodiaco abbiamo un ultimo rimescolatino vediamo cosa esce ok eccoci qui pronti iniziamo subito e vediamo che cosa accade per chi di voi ha a che fare con una rete le emozioni potrebbero crescere per entrambi con il toro c'è sentimento però il toro vuole mantenersi distaccato il gemelli sta aspettando un vostro passo quindi tocca a voi a quanto pare il cancro prova qualcosa per voi però sta cercando di evitarvi il leone potrebbe diventare un'amicizia la vergine provava qualcosa per voi però adesso sembra non più il la bilancia pensa troppo invece di agire lo scorpione potrebbe essere o potrebbe diventare un'avventura magari una storia di sesso il sagittario vi vede bellissimi quindi c'è una bella attrazione il un altro capricorno beh se avete a che fare con un altro capricorno state attenti perché uno dei due non è onesto al cento per cento con l'altro con l'acquario l'acquario si sta annoiando comunque si sta stancando della situazione e il pesci invece vi sta ignorando o voi state ignorando i pesci comunque ecco sembra che questa persona sia pronta a chiudere e passare oltre vediamo adesso che cosa accade che cosa ci dicono gli angeli regina di fuoco è proprio chiaro è proprio chiaro questa è una carta che ci dice di aprire le ali e spiccare il volo quindi di non sottovalutarvi di non rimanere agganciati a cose che non non sono il meglio per voi dovete questo mese dovete lavorare tantissimo sull'affermare la vostra indipendenza la vostra creatività la vostra capacità di fare qualcosa di bello per voi stessi dovete veramente fare un salto spiccare proprio un salto andare oltre e siate consapevoli delle vostre capacità siate consapevoli di quello che valete e di quello che meritate davvero ragazzi per il resto se volete una sessione privata con me inviate una email oppure andate sul sito internet e noi ci vediamo alla prossima